Se è vero che in situazioni d'emergenza è fondamentale la capacità di fare rete, è altrettanto vero che avere nel territorio realtà in grado di spendersi per gli altri può fare la differenza. È il caso della frazione di Bellocchi, dove otto associazioni locali hanno deciso di unire le forze e dare vita al progetto Bellocchi Comunità, una raccolta fondi per supportare i volontari della carita sparrucchiale, che a loro volta, ormai da anni, seguono famiglie del quartiere alle prese con problematiche di tipo economico. Qualche telefonata, qualche chiamata via Skype, alcuni giorni di confronto sulle modalità ed ecco pronto il codice IBAN sul quale associazioni, aziende, ma anche semplici cittadini potranno versare le somme che andranno ad aiutare quei residenti della frazione che a causa dei disagi provocati dal coronavirus hanno difficoltà a fare la spesa o magari a pagare qualche bolletta. Il Paese dei Balocchi, Amici di Bellocchi, Verde Vivo, Tra le Note, Compagnia Teatrale Il Gaf, Atletico Alma, Azione Cattolica Bellocchi e Vivamente. Queste, le otto realtà, che oltre ad avere in prima persona contribuito alla causa, hanno deciso di sensibilizzare il quartiere perché ad aver bisogno di una mano, spesso, anche se non ce ne accorgiamo, può essere il nostro vicino di casa e in questi momenti avere nel territorio persone in grado di spendersi per gli altri, può veramente fare la differenza.